Grazie 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 O U Quanto importante Per segnare Certo Scena Sì Questa settimana LGBT Sia sono in buone condizioni e venga di me e deve avere una ricorda di vita. Ecco, cosa pensi che bisogna migliorare più per non perdere altre posizioni? Perché il scuolo pubblico è una squadra che ha buoni gestioni, ha usato un buon canto, però non c'è mappa, non bisogna partire dalla connessione internazionale. E quali sono le cose per sistemare per il nostro futuro? Sì, per me deve migliorare tutto. Tutto è una cosa importante, perché la squadra può tenere qualcosa di meglio, in tutte le cose che tocca, e poi deve migliorare. L'ultima, sappiamo che hai fatto benissimo ultimamente, quindi come stai? Adesso sono in buon canso, ho fatto un buon lavoro questa settimana, con l'istar fisico e adesso vi presto delle belle vite della giornata. Grazie, complimenti sulla doppia. Portamela da piano, te la vado a fare. Ciao, ciao ragazzi.